E' arrivato anche il 27 di maggio, un venerdì che preannuncia un weekend di grande impegno per coloro che fanno campagna elettorale, di invece relax primaverile per la maggior parte della popolazione, anche dei comuni interessati dal voto. Ma torniamo a noi e guardiamo come parlano i giornali quest'oggi delle vicende lombarde. Si parla molto delle nomine all'ARAC, l'autorità regionale anticorruzione, il magistrato Dettori alla guida dell'ARAC, questo è il titolo del Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, Noa Di Pietro e Dettori, il Cantone di Maroni e varato anche il Comitato Scientifico Antimafia preseduto da Nando dalla Chiesa, cosa che è avvenuta già qualche giorno fa. Le regioni non possono istituire un organo con gli stessi compiti dell'ANAC, è la dichiarazione di Raffaele Cantone che risale però a almeno un mese fa. Il Fatto Quotidiano riassume in questo articolo un po' tutta la storia dell'ARAC. Andiamo sulla Repubblica, NCD e Forza Italia si oppongono a Di Pietro, presidente ARAC, in bilico la nomina dell'ex PM, Maroni sceglie i cinque consiglieri. Ma come, non era già Dettori dall'altra parte, almeno secondo il Fatto Quotidiano, il Corriere e il direttore? Vediamo cosa ne pensa il giornale, ora rispunta Di Pietro per l'autorità anticorrotti. Davvero si capisce poco, perché la notizia a quanto pare non c'è. Evidentemente siamo ancora nel campo delle ipotesi, Maroni sarebbe impegnato a decidere entro oggi, vedremo quale sarà la decisione. A quanto pare, però, non si capisce di Pietro, sì no, dovrebbe essere Dettori il capo di questa autorità anticorruzione. Andiamo sul giorno. Le età del Grattacielo, il Pirelli ha 60 anni dalla posa della prima pietra. È una notizia che riguarda la mostra che al 26esimo piano del Pirellone sarà aperta fino all'11 settembre, nei giorni feriali. Torniamo sul Corriere della Sera a Milano. A rischio la privacy, il garante condanna Lombardia Informatica, chiusa l'indagine sulle falle nella rete, possibili sanzioni per la società informatica di Regione Lombardia. Il Corriere della Sera a Milano ci dà notizia, unico dei quotidiani oggi in edicola, dei domiciliari concessi a Fabio Rizzi, che dovrebbe patteggiare per la vicenda delle tangenti in odontoiatria e che si è dimesso nei giorni scorsi da consigliere regionale. Sempre il Corriere della Sera a Milano parla di polemica in Regione, nidi gratis, il PD attacca Maroni, campagna da 1,5 milioni di euro per le affissioni sul reddito di autonomia. Il giornale Milano torna su un progetto di legge su iniziativa del patto civico. All'asilo nido accettare solo bambini vaccinati. Il patto civico vuole l'obbligo dell'ignazione anti-malattie infettive. In realtà non è una invenzione di oggi. L'allarme, la Lombardia è sotto la soglia di sicurezza del 95%. La novità potrebbe entrare in vigore già da settembre. La vedo dura, visti i tempi consigliari, però il giornale pare fiducioso. La Repubblica, alloggi popolari, quota riservata alle forze di polizia. La proposta a cui sta lavorando l'assessore regionale Fabrizio Sala all'interno della legge che dovrebbe arrivare in consiglio il prossimo 28 giugno. La nuova legge sulle regole per l'assegnazione degli alloggi popolari in Lombardia. Andiamo su Avvenire. A proposito di casa, sindacate inquilini contro la Regione. In centinaia hanno protestato davanti al Pirellone per chiedere modifiche alla legge sull'edilizia residenziale pubblica. In effetti, rumorosa protesta ieri pomeriggio solo a venire da questo rilievo a quanto accaduto appunto ieri. Il giorno. L'inarrestabile crescita dei voucher in Lombardia più 49,6% in un anno. L'esperto. Attenzione all'utilizzo improprio. Il boom nel commercio. E sì, i voucher spesso e volentieri rischiano di essere una sorta di foglia di fico per far emergere, ma fino a un certo punto, il nero. Ancora dal giorno, Monza è il Gran Premio da salvare. La Regione è a Laci. È l'ultima chance. Il Vice Governatore Sala, pronti 21 milioni, decida entro il 15 giugno. Se l'Automobile Club di Milano ci consente di entrare in Sias, si potrebbero soddisfare le condizioni dettate per il rinnovo. I soldi che mancano li mettiamo a noi. La soluzione per arrivare alla firma c'è parola del Vice Presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Ancora al giorno, oggi tante notizie sulla Regione. La Regione sfida la disoccupazione, avvia il tour di garanzia giovani. Finora inseriti nel mondo del lavoro 48 mila ragazzi. Milano è in testa. Ieri è partito il road show con tanto di tier dedicato. Partito dalla sede di Regione Lombardia. L'assessore Aprea lo porterà in giro per tutta la Regione. Ieri, a dire la verità, molto pubblico, un po' cammellato, diciamo così, pochi ragazzi interessati davvero al provvedimento. E per chiudere andiamo sulla provincia di Cremona, che ci riporta un'imperdibile dichiarazione dell'assessore alle culture Cristina Cappellini. giorni importanti per lo sport e la Lombardia. Questa è una settimana davvero importante per quanto riguarda la finale di Champions e per lo spettacolo che l'altro giorno ha fatto rivivere l'area dell'Expo. Ci mancava questa dichiarazione, però ne prendiamo atto, per carità. Sono davvero giorni importanti per la Lombardia e per Milano in particolare. E' tutto, grazie per aver seguito anche quest'oggi la Rassegna Stampa da Fabio Pizzolo. L'augurio di un buon weekend.